Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Baruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, nel Borneo, in un hotel in cui stanno facendo dei lavori e questo è un ponteggio fatto con le canne di bambù. Ecco, vengono le canne di bambù legate con dei laccetti di plastica. Ecco, possiamo anche andare a vedere in basso come è fatto, vediamo tutto un ponteggio fatto con le canne di bambù. Ok ragazzi, continuate a seguirmi sul mio sito internet e ve la do io l'Indonesia. Ciao a tutti!